Benvenuti all'intervista. Un programma condotto da John Bruschini. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti all'intervista, il programma che vi porta le storie e le opinioni dei personaggi più interessanti del nostro tempo. Sono John Bruschini e oggi sono lieto di presentarvi la mia intervista con Alessandro Perletti-Corsini, in arte Aleppo, un artista talentuoso che abbiamo già avuto il piacere di incontrare e che oggi ci presenta il suo ultimo CD dal titolo Gli Amori alle Stazioni. Nel corso della nostra intervista parleremo della sua carriera musicale, delle sue influenze e dei suoi progetti futuri. Ehi Ale, il mio treno arriva alle 11, ci vediamo lì, ok? A più tardi! Ok, per quell'ora sarò lì, mi mandi la posizione che non so dove è la stazione, ciao! Lei, lui, noi Lei, un lungo viaggio alla fine già qui, che oggi pensa mai lo rifarei, che quell'istante non passerà mai. Compra il biglietto, dimmi dove le vai. Lei, torno a novembre e non mi dimenticherai, torno a novembre e non ti dimenticherei, con quei momenti che non passano mai. Su, corri e parti, devo andare da lei. Non alle stazioni, non alle stazioni. Lei, ma tante social non li inventano mai. Speriamo che i social non li inventano mai. Lei, lui, lei, lui, lei, lui. Gli amori alle stazioni, i sentimenti buoni, sembriamo due coglioni a dirci che non ci nasceremo mai. Gli amori alle stazioni, la vita e le canzoni, viviamo i tormentoni che non valeremo mai. Mi spezzo il cuore che sembra un addio, respiro vapore, stanchezza e obbligo. Il mio vagone è più avanti del suo, il suo magone non passerà mai. Non vedo l'ora che parta quel treno, non funzionava più nulla tra noi. Non funzionava più nulla tra noi. E lo dirò se ancora tempo ne avremo. Gli amori alle stazioni, i sentimenti buoni, sembriamo due coglioni a dirci che non ci nasceremo mai. Gli amori alle stazioni, gli sguardi alle emozioni, tiriamo due palloni. E non segneremo mai, e non segneremo mai. Ti vorrei salutare alle stazioni, come parete e prete. Muschini, cieli e tugnazzi che mancando montagnani. E come Renzo Montagnani, vorrei amare le belle donne. Del cinema italiano, del cinema italiano. Ehi, scusami tantissimo, non sapevo che c'era lo sciopero dei treni, quindi non sono all'istazione. Però adesso sono in autobus, quindi ci vediamo alla fermata. Ma non so a quale fermata, te ne mando tutte e due le posizioni, va bene? Gli amori alle stazioni, i sentimenti buoni, sembriamo due coglioni a dirci, non ci nasceremo mai. Gli amori alle stazioni, non ci nasceremo mai. Gli amori alle stazioni, non ci nasceremo mai. Gli amori alle stazioni, non ci nasceremo mai. Alieco è un cantautore che sa raccontare le sfumature della vita con delicatezza e garbo, senza cadere nel sentimentalismo o nella banalità. Tra i molti attributi, quello che trovo più calzante è che le sue canzoni sono piccoli quadri impressionisti, in cui i ricordi si mescolano ai sogni, le emozioni ai pensieri, le comitive agli amori. Con una voce carezzevole e una scrittura fluida, all'Eco ci accompagna in un viaggio tra le stazioni della sua esistenza, dove incontriamo personaggi, luoghi e atmosfere che ci parlano di noi stessi. Il suo terzo album, Gli amori alle stazioni, è un lavoro maturo e raffinato, arricchito dalle collaborazioni di Antonella Gentile, Andy Biccarelli e David Matt Knight, che conferiscono a questo disco una varietà di stili e sonorità. Dal folk alla bossanova, dal rap al pop, all'Eco dimostra di essere un artista eclettico e originale, capace di sorprendere e coinvolgere l'ascoltatore. Gli amori alle stazioni è un album da scoprire e apprezzare per chi ama la musica e le storie. ma sorpresa, sorpresa, abbiamo qui con noi oggi Alessandro Ferretti in arte. Alessandro, finalmente. Eccoci qua. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Gianni. Hai visto? Passavo qui sotto, ho visto scritto Bruschini sul citofono, ho detto fammi provare a vedere se c'è Gianna. E in effetti sì sì. Ho fatto una passeggiata di 300 km, insomma non ci sta. Gli amori alle stazioni, da una stazione all'altra sono arrivato anche in studio. E sei arrivato in orario. Sono arrivato in orario. Per la prima volta. A differenza del protagonista, sì. No, no, a differenza anche del protagonista del mio videoclip che è uscito da poco. Però si è presentato senza fiori. Qui per noi stiamo con i fiori, qui c'è questa roccia. Esatto. Allora, gli amori alle stazioni, ad ECO, firma Music Force, etichetta Music Force. Allora, come è avvenuto in mente, no? Com'è iniziata questa carriera musicale? Allora, la carriera musicale, poi credo che ne abbiamo già parlato in un'intervista precedente, ma lo diciamo tranquillamente per tutti quanti quelli che non ci hanno ascoltato l'altra volta, è iniziata per gioco, perché nel 2020, compiva 70 anni, a gennaio 2020, mia madre, e per farle un regalo un po' particolare, un po' diverso dal solito, decisi di incidere una canzone che era l'ultima generazione felice, e farle una festa sorpresa, presentare il videoclip e la canzone. Solo che la canzone poi la scrissi vari mesi prima, quasi un anno prima, fu terminata, no, un anno prima. Allora, dissi al mio arrangiatore, il meraviglioso Andy Mugarelli, Andrea, che a questo punto potevamo fare anche un album, e ci siamo affrettati, siamo riusciti a pubblicare a gennaio 2020 il primo album, l'ultima generazione felice, seguito dal secondo album, Il Sapore della Luna, nel 2021, per arrivare al terzo, gli amori delle stazioni, nel 2022. Fine, 2022, però è un album che è tuttora in promozione, perché il videoclip è uscito praticamente un mese fa. Allora, tu hai parlato di Andy Mugarelli, di Andrea Mugarelli, però, allora, questo terzo album, tu sei arrivato al terzo album, che è stato, ti sei avvalso delle collaborazioni di più persone, non solo di Andy. Sì, allora, Andy ha curato gli arrangiamenti di tutti quanti gli album, e come sempre, ovviamente non ho parole per il suo lavoro, che mi capisce sempre al meglio. E in questo disco ci sono anche Antonella Gentile, che è una ragazza, non è che sia una ragazza, c'è l'età mia, quindi è una ragazza, che fa musica folk, bravissima tra l'altro, che ha duettato il brano di Amori alle stazioni, e ha messo la voce anche in Diavolo e in Occhi, che sono altri due brani del disco. E poi c'è David Madnight, che ha messo la parte rap, nel brano Notte prima degli esami, trattino Questa notte ancora nostra, che è un brano unico, dove la prima parte è la cover del famosissimo brano di Venditi, e la seconda parte è un brano che potrebbe essere un seguito in versione moderna di quello che ha scritto Venditi, e abbiamo realizzato una storia nostra, peraltro molto attuale, in cui si parla anche di un amore impossibile tra due persone, di una israeliana, di una palestinese. E l'abbiamo fatta purtroppo prima che capitasse tutto quanto quello che c'è adesso. Allora Alessandro, un'altra domanda che mi hai fatto è questa. Quali sono le tue influenze musicali, considerando che questo ultimo tuo lavoro, questa tua ultima grande impresa, si passa dal folk alla Bursanova, dal Nacal Pop, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, se sei rifatto a qualcuno, c'è qualcuno qualche riferimento, qualche influenza musicale, che si ravviva, diciamo, ascoltando questo tuo CD? Guarda, le influenze musicali sono sempre di quelle cantautorali classiche italiane, che comunque spesso nel corso degli anni, perché comunque parliamo dei cantatori italiani, partono dagli anni settanta, ad oggi hanno avuto anche loro tante influenze, magari abbiamo trovato quello che ha fatto più il cantautore puro, quello più impegnato in politica, quello che ha parlato più d'amore, quello che ha sbariato, insomma, ci sono state veramente tante tante situazioni, e allora ho attinto un pochettino da tutti, perché sono un grande fungione di musica italiana, e mi piace anche scoprire, scoprire o conoscere, degli artisti meno noti che comunque fanno questo genere. E poi dicci qualcosa, dicci sulla creazione di tuo album, di tua realizzazione, come nasce, come è stato realizzato il suo complesso? Allora, nasce da un'immagine, l'immagine è quella della stazione di Terracina, in cui dal 2013 ad oggi, o dal 2012, se non sbaglio, ad oggi, due grossi massi hanno reso il passaggio dei treni totalmente impossibile, impraticabile, e ogni volta che vado al mare, lì a Terracina, dalla superstrada vedo questo enorme masso che blocca i binari. E allora lì, nel corso del tempo, ho detto, guarda, questa deve essere un'ispirazione per qualcosa, e effettivamente mi veniva in mente qualcosa tipo, e se qualcuno stesse aspettando un treno e questo treno non passasse mai, se questa fosse una storia da raccontare, allora da lì nasce gli amori alle stazioni, e il videoclip è abbastanza eloquente, perché nel videoclip si capisce proprio tutta quanta questa storia, basta cercare su YouTube a lei quegli amori alle stazioni, e da lì poi, da questa canzone, è nata la creazione di tutto quanto l'album, che sono nove pezzi che si dipanano ad una, insomma, nella storia di questo, di questo, di questo amore, alla stazione di questo amore che ovviamente non arriverà mai. Allora, questo tuo ultimo album, gli amori alle stazioni, è composto da nove brani, come hai detto, di cui uno è una coppia, di vendite. Sì. Se dovessimo adesso scegliere un altro brano da ascoltare, da far ascoltare agli amici del radioascoltatore, quale c'è l'idea di scrivere? Senti, abbiamo parlato di questa cover, la vogliamo far ascoltare perché ci tengo molto, soprattutto alla seconda parte della canzone, perché Notte Prima degli Esami la conoscono effettivamente tutti. Ho creato un brano unico, Notte Prima degli Esami, questa notte ancora nostra, dove ho voluto immaginare altri amori impossibili del passato e del presente, ma ovviamente sempre con la luce della speranza che questi amori si possano comprezzare. E allora andiamo ad ascoltare Notte Prima degli Esami, questa cover, questa notte ancora nostra, una cover di venditti che riprende il tema della nostalgia e della gioventù. Con l'ausilio di David Madnight, che insieme a me ha curato la seconda parte. Ascoltiamo. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi scusare dagli avvocati? Le bombe delle sei e non fanno male è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontano dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto stasera al solito posto la luna sembra strana sarà che non ti vedo da una settimana. Noi tu ho ridato avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero il tuo peccato originale come le tue canzioni americane non fermare ti prego le mie mani sulle tue cosce tese chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami notte di polizia certo qualcuno te lo sei portato via notte di mamma e di papà con i bronbi in mano notte di nonne alla finestra ma questa notte ancora nostra notte di giovani autori di pizze fredde di canzoni notte di sogni di coppe e di campioni notte di lacrime e brighieri la matematica non sarà ma è il mio mestiere e gli aerei fuori all'alto tra New York e Mosca ma questa notte ancora nostra Claudia non tremare non ti posso far male se l'amore è amore se l'amore è il mio mestiere David Matt Knight questa notte è ancora nostra Ed è proprio questa notte che faremo un figlio Sì poi però la vita cambia e porta scompiglio Non è questo il senso dell'amare davvero Non è questo il senso della vita che ci spiazza Che se viva te la bimba e tu risiedi al calza Un viaggio in odissea come per Ulisse o Mero Tutta questa vita è arrivare a 18 anni La notte prima degli esami togliti i tuoi pani Non mi sembra vero poter parlare con te Io da questa parte del muro e tu al Berlino Est È l'unico modo che abbiamo per comunicare Ritare sulla punta di un aereo di carte Fartelo arrivare mentre sei a studiare Per la tesi finale tu sembra normale Ed è proprio questa notte che faremo un figlio Tra temi matematiche e l'ennesimo sbadiglio Poi nascerà e crescerà senza accorgersi di niente Quello che avremo glielo daremo veramente Non è questo il senso della vita che ci spiazza Che se viva te la bimba e tu risiedi al calza Ma oggi ora adesso sogna senza sosta Perché questa notte è ancora nostra Perché questa notte è ancora nostra Il tema del ricordo è molto ricorrente Molto presente nella musica In particolare nelle canzoni d'autore italiane E abbiamo parchi esempi Nella storia della musica italiana Da cui il povero treno di Pennato Sul treno di Simone Questicchi Il treno di Giordalla Una stazione in Riva al Mare Di Giorgio Gabber Dove fermano i treni Dove fermano i treni E così via dicendo Le canzoni che parlano di ricordi Spesso evocano immagini e sensazioni del passato Creando una costera nostalgica e malinconica I ricordi possono essere legati a persone Luoghi, esperienze Emozioni E rappresentano un modo per rivivere il passato E preservare la memoria Alcune canzoni che parlano di ricordi Includono gli amori alle stazioni di Aleppo Che ho visto così per approdare poi L'ultimo bacio di Carmen Consoli L'emozione per sempre Di Eros Ramazzotti Il bene e il male di Madame E di dicendo La musica può essere un modo potente Per esprimere i nostri sentimenti E le nostre emozioni Per canalizzare le emozioni Le emozioni e le canzoni Che parlano di ricordi Ci permettono di rivivere momenti speciali E di preservare la nostra storia C'è un messaggio particolare Che vuoi trasmettere attraverso la tua musica? Allora, hai detto delle frasi bellissime Perché la musica secondo me È veicolo per ogni tipo di messaggio Un messaggio detto in musica Probabilmente molto più forte Che in qualsiasi altro tipo di messaggio Infatti la musica è uno dei linguaggi universali Hai citato in varie canzoni Che tra l'altro conosco Un po' più vecchie Anche nuove E mi fa piacere insomma Che io posso essere accostato con la mia musica A questi grandi artisti Il messaggio che voglio dare È come dici tu Anche preservare i ricordi Avere quel pizzico di nostalgia Che non è una cosa brutta Perché la nostalgia magari implica dei bei ricordi E quindi sono sempre delle emozioni Che è giusto conservare E che bisogna avere sempre Tanta leggerezza nel fare tutto In fin dei conti Gli amori alle stazioni E l'amore che sarebbe anche malvagio Sotto alcuni punti di vista Perché sono tre o quattro storie Che si intrecciano Di persone che si tradiscono Non vogliono Che il partner ritorni Non vogliono che se ne vada Il prima possibile Non mi faccio trovare Perché devo andare con quell'altro Ma è fatto comunque Con una leggerezza tale Che il brano Il messaggio può essere Anzi viene risuffondibile Veramente a tutti Quando Alessandro Mi fai pensare Perché Vabbè Come a te Sono molto legati ai ricordi E quando si rievocano I ricordi Automaticamente Si parla di ricordi Legati alla propria adolescenza Alla propria vita Alla gioventù Così come abbiamo visto Con il brano Notte prima degli esami Non si può non pensare Alle committive Committive da ragazzi Quindi io credo Che la canzone più nostalgica Che paragono le vierne Carovane Alla settile Con il tempo Delle grandi compagnie Che ricordano La giornata d'estate No del 1291 Con questa poca canzone Le committive Che adesso andremo Ad ascoltare Buon ascolto Vedimi Vedimi La vita non è più Come allora Troppe carovane Anaffetti Troppi io so tutto Troppi non ti parlo più Ma tu Ma tu Ma tu Tu fai ancora in tempo D'ar di più Ma tu Ma tu Fai sti in tempo D'ar di più Le quattro meno Un quarto E sul display Non sa quanti amici Sembrano al doppio Dei miei Ma laggiù Laggiù Non c'è chi Ti conosce bene Pensera E se te L'usio Forse Rennuva Tu Il sole Picchia Forte Non frega Nessuno Ma che Si fa Abbiamo Tutto Quello Che vogliamo Le carte Le bici Gli sbagli Le comitive Le comitive Le comitive Lo comitivo Mi so già Di Quando Poi Mi sta E La tua La tua Ogni Strada Oggi Le camerette E quei cosi Quadrati C'è Le niente Visioni Ma il cielo Un po' Più Basta Basta Seguire I gialli Luminosi Credimi Ho visto Gente Sbattere Ed inciampare Togliare Il cuore Se nulla Potesse Accadere In Troppi a tanti o a qualcuno, il tuo pallone non muro contro nessun muro, ora vieni qua e ti spiego qualcosa anche se non ti va, tutto quello che ti stai perdendo, un giorno è indietro neanche se è corretto, dai vieni qua, abbiamo tutto quello che vogliamo, le carte, le bici, gli scolli e le comitie, 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 le socialie, quando voglio ogni strada e la tua casa, ogni strada, oggi le camerette, con cose quadrate, c'è le mie televisioni, ma che scendeva un un po' più su, basta seguire i gialli e i blu, è arrivato, è arrivata, la vita di oggi non è impossibile cambiare le proprie niente, niente, le camere, le principi persone, cioè la vita reale, il cielo è proprio lì, sta a seguire solo i vostri cori, le comitie, e ora il cielo è proprio lì, basta seguire solo i vostri cori, ma ora il cielo è un po' più su, basta seguire i gialli e i blu, è arrivato, 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 è arrivato. Allora Alessandro, abbiamo gustato questo brano, le comitive, e vorrei sapere da te se la descrizione che ho fatto io, cioè se calza a pennello, se va bene, se vuoi aggiungere qualcosa di personale, cioè credo che sia la canzone più nostalgica dell'intero album. Guarda, è la canzone che conclude l'album, ed è la canzone con più pathos rispetto a tutte quante le altre, perché sì, è nostalgica, è emozionale, e racconta un periodo che non so se tornerà più per me, per te, per tante altre persone che le hanno vissute, le grandi comitive, la spensieratezza delle estati lunghissime, non dover pensare a nulla, invece di guardare con quegli schermi, con le cose quadrate, che io chiamo le niente visioni, nella canzone, preferisco che vengano osservati i gialli luminosi, quindi stare con la testa in su, e i gialli luminosi rappresentano il sole e le stelle, quindi in ogni caso, di giorno e di notte, è sempre bello guardare il cielo. Quindi è per questo che è la canzone con più pathos. Però è anche un appello rivolto ai giovani, dicendo, in questo caso dico tu, ma vale per tutti quanti i giovani, anche al plurale, potete ancora cambiare questa storia, potete ancora alzare la testa e guardare il cielo, le stelle e il sole. Cosa farete grande e quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, progetto futuro, brevissimo, sta per uscire un film di Ennio Trovandi, mitico attore fiorentino, scusami, mitico attore toscano, per Pistoiese, di Amici miei, Ragazzi della Terza C, Sapore di Mare, insomma, comico attore bravissimo, sta per uscire un suo film che si intitola Guance Rosse e la canzone Guance Rosse, proprio, che sarà con una sonora ufficiale del film, l'ho scritta io, sempre insieme a Dandy, cantata con Nancy Fazzini, dovrebbe uscire in primavera il film e quindi il prossimo step sarà la presentazione di questo film e di questa canzone. E poi, insomma, più in là vedremo perché creiamo altri brani e vediamo quando sarà pronto un futuro quarto album e sicuramente digitofonerò un'altra volta e oggi faremo una telefonata e vedremo. Grazie Alessandro per essere stato qui con noi, un bel piacere e grazie a voi per averci seguito in questa intervista con Aleco, Alessandro e Carletti Orsini, speriamo che vi sia piaciuta, che vi abbia permesso di conoscere meglio questo talentuoso artista. Vi invitiamo a seguire la sua carriera e a scoprire le sue canzoni che sono un'esperienza unica e equivolgente, come, acquisendo il suo CD, gli amori alle stazioni, etichetta Music Force in vendita in tutti gli store. John Bruschini vi saluta, con Alessandro Carletti Orsini, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, vi aspettiamo alla prossima puntata dell'intervista dove incontreremo altri personaggi interessanti nel nostro tempo. Grazie a tutti. Ciao a tutti, a presto. Ciao Alessandro.